Oggi faremo una skybase usando le spade laser perché non so se lo sapete ma le nuove spade laser se vengono prese hanno la possibilità di fare il doppio salto In questo modo non prenderemo danno, infatti adesso faremo una partita facendo una skybase e provando a vincere Guardate il video all'inizio fino alla fine ma prima iscrivetevi al canale, trovate la campanella e lasciate un bel mi piace e ora godetevi il video Ci siamo, allora andiamo qua sotto a distese, lutiamo dove vi ho messo il ping blu così non siamo dove c'è tanta gente Aspettiamo che spawnano le spade laser Allora al massimo prima di prendere le spade, ok Ah si tanto qua dietro le armi ci sono quindi ce l'abbiamo Aspettiamo che spawnano le spade, vabbè io vado anche nella casetta qua accanto Sceglietemi una casetta tra queste qui dietro Non andate, no matti c'è gente lì, vieni indietro Fuori dalla distese, a distese ma fuori Io vado in queste due casette appena spawnano le spade le prendiamo e poi dobbiamo farmare il mazzo, ok? Ne sono spawnate due attuali Io ne vedo due, poi non so se di là ce ne sono altre Matti Ti prendo la mano Scendi, 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 dammi la macchina Tu piglietti questa qui verde vicino E vado a prendermi l'altra più lontano Vai Dobbiamo prendercela, è qui davanti a te Dobbiamo prendercela noi per forza perché altrimenti non abbiamo il doppio salto E ci serve Ma me l'hanno rubata? No, ok Mi dispiace Dov'è? Eccola qui Perfetto Ok ragazzi Dobbiamo per forza andarla a prendere noi Perché altrimenti non abbiamo l'effetto che ci fa fare il doppio salto Ah Ragazzi io ci sono, ci sono Voilà Infatti adesso guardate Boom Con il doppio salto non prendete danno Allora c'era un ammo ma non l'hanno aperto Cioè l'hanno fatto scappare però c'è uno Ragazzi questa è la partita, questa è la partita Vabbè per forza Vabbè è un bot questo Abbiamo pure l'amale che si fa le kill gratis Ok Morto Oh un po' di mazze dovrebbero averci Forse Morti Ok io anche Vediamo Allora dovete essere full almeno pietra e legno eh Io sono quasi full di legno Ho 868 ora quasi 900 Ok Io invece non sono full di un cavolo Però sono a metà quasi full di pietra e legno Tutti e due Quindi Ok Continuiamo a farmare regà perché siamo a bordo Dovete venire qui dove sono io eh Partiremo da qui più o meno Da queste collinette che ci sono qui 961 di legno mi manca Adesso dobbiamo partire su e non scenderemo mai più Quindi i materiali che abbiamo abbiamo Eh se no niente Speriamo che sia la volta buona Avete tutta la spada Sì sì Ok meno male Allora Venite qui con me Ma tu sei full di pietra Ho 800 Eh omega No io ho 414 di pietra No io ho 414 di pietra Sarola E tu Matti quanto hai 54 di pietra Come 54 di pietra No regà Vi ho detto full di pietra e full di legno Non siamo full di nulla Sono full 999 Io sto facendo full Legno per ora Io spacco qui Dobbiamo partire da qui Sono full Vai comincia la scalata Ma da di qui eh Da di qui Iniziala ok Verso di là Vai iniziala Fammi vedere dove hai messo qui Sì sì vai Continuala Iniziala ad andare su Finché non c'è il limite Sono full di legno È full di legno? Ok vieni qui da noi ma Devi correre ai 20 secondi Ai 20 secondi per venire Sto facendo anche un po' di pietra veloce E io mi sto facendo un po' di legno velocemente Ma fra parte la safe Parte la safe Ok ci sono Ragazzi ci sono Sei al limite? Sì Allora inizia ad andare avanti Inizia ad andare avanti con i pavimenti Vai Ma è già il limite quello? Eh sì Non mi fa andare avanti Ok Ok Vai andiamo Matti Matti Sta partendo la safe Vieni Matti veloce Corri Matti andiamo Saliamo su Mamma mia ragazzi C'ho paura Vieni Matti ci sei? Ci sono però Guarda quanto sto salendo Tu mi hai detto che era il limite lì Cioè Mi si era bugato allora Andiamo un po' di lato Se non ci vedono Andiamo qui Cioè guarda quanto sto salendo Tu mi hai detto che il limite era lì? Non lo so Qualche bug ce l'hai eh Bah Vieni Torniamo giù E il limite? Il limite è questo Ah ok Ok ci siete tutti? Siamo anche in safe Perfetto Siamo anche in safe Più o meno Ok ragazzi dobbiamo stare al bordo Tenetevi alla spada Tenete il piccone in mano Che se editate per sbaglio Se sparate per sbaglio con la spada Moriamo tutti eh Togli la spada Tenete il piccone in mano Tutti e due Solo io la posso tenere in mano Voi no Non mi fido Venite venite Ok L'isola No non possiamo Vabbè lasciala lì a quell'isoletta Stavo controllando No niente Stavo controllando solamente Andiamo per di qua Per evitare che ti distrussi Vorrei Io starei fermo qui Finché non arriva l'altra safe Guarda anche la mappa Che figlia Mega city Poi la safe da ps5 Regà è spaziale Guarda qui Cioè regà Guarda Io ho la ps5 strada Bravo Regà guardate Omega mi aveva detto Che quello lì era il limite Di costruzioni Guarda dove siamo arrivati Allora 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 E qualche bug nel cervello Secondo me Esatto Qualche bug Un po' Ma per poco Per poco Adesso vai dritto Basta basta Vai dritto di qua Di qua Di qua Fermo Di qua Fermo Fermo Di qui Vai dritto adesso Tira dritto Costruisci un po' Sono troppo lontanita La safe Tranquillo Adesso se noi andiamo dritti Entriamo in safe Lo so Ho finito i maz Come Di legno Matti vai te Vai te No Matti dritto Non andare storto Io metto la corsa automatica Se mi fai cadere È colpa tua Quindi vai dritto Come stop Ma perché vai storto Fra Ma vai dritto Ma no no Entriamo Vai dritto Sei tranquillo Se no ci fidano Fidati di me L'ho fatta le skybase In Sei anni Di fornite Le ho fatte tante E le ho anche vinte Tutte le volte che le facevo Quindi tu vai Tranquillo Ora il mio via Gira a destra Vai Gira a destra Bravo Vai dritto Vai dritto Basta 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 Fermo 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 qui Siamo qui Siamo in safe Ora quando la safe Si chiude Tutta la nostra skybase È fuori safe Già adesso La base Non la vedi Non la vedi più la base Vedete non c'è più la base Ma perché non c'è più Spaccata No No non ce l'hanno spaccata Non la vedi più perché è lontana Quindi Piano piano non vedranno più neanche questa Ora dobbiamo capire dov'è la prossima Contando che l'isoletta è lì Se noi passiamo sopra l'isoletta ci vedono Cioè loro in realtà già adesso ci vedono Infatti state attenti Non ci scivoliamo Ok Dobbiamo andare dritti Ora Dritti Regà dritti Dritti Tutti dritti Vai Sì regà siamo messi stra bene Ma io potrei costruire ancora per tutta la mappa Posto posto Avete zero maz voi No io ho Droppatemi tutto Droppate tutto Droppate Ho 440 Sì anche la spada grazie 441 aspetta eh Vabbè qualcosina tenete Vabbè basta Vabbè mi tengo il parro Che ne ho 221 Non lo so ripreso Andiamo avanti Aspetta Io ho sentito Spari qua sotto eh Ditemi se li vedete No Sì E qua sotto Guardalo Fermi Non affacciatevi Fermi qui Tornate indietro Tornate indietro Fermo E lì Lì Siamo qua Siamo qua Fermi Aspettiamo un attimo Aspettiamo Aspettiamo No non è buggato È normale Perché il rift non è in altissimo È lì No siamo sopra il rift Vai piano Andiamo avanti Ma piano Un blocco alla volta Sono sotto di noi Matti per favore Buona quella spada No 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 Vado io Mamma mia Sono sotto di noi Secondo me Falliamo 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 Secondo me Stiamo rischiando tantissimo Ragazzi Secondo me Non ce la facciamo Io vorrei rimanere fino all'ultimo Siamo dentro Sì Basta Qui Matti attento Fermo qua Fermi qua Fermi 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 Allora guarda lì Sono lì sotto Sulla torre Ragazzi non vi affacciate con la spada Che vi vedono Sennò fermi Fermi Non sparare Fra Non sparare Non farlo Oh regà con calma Tranquilli 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 Siamo proprio a bordo safe Però dobbiamo andare di lì Dove vi ho fatto il corso della spada Matti Matti non prendere le dita in mano Che se lo fai per sbaglio Guardali Sono tutti qua sotto Ragazzi Secondo me è un bene Che si stanno Stanno combattendo Perché non guardano sopra Ragazzi Se combattete Non guardate mai sopra Quindi forse è anche un bene Guarda che torna indietro Che bello Potremmo tornare anche indietro Potremmo tornare indietro Volendo Però andiamo di qua Di qua è più bello Dai mi piace No di qua Di qua Collegala verso di qua Matti Collegamela Bravo Così abbiamo un collegamento Ci sta Guarda raga eh Siamo proprio al bordo della safe La safe è piccolissima Siamo in otto Mamma mia Siamo i due team Siamo i due team Siamo i due team Raga Siamo tre contro tre Adesso ci beccano Venite qui Adesso ci beccano Pronti con la spada Ci hanno spaccato Raga Pronti con la spada Pronti Let's go Raga Fate il doppio salto Raga Combattiamo Dobbiamo vincere Guardala lì Oh pronti Venite qua Vi do un po' di mazzo Venite 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 Prendete Ve ne do altri Prendete Matti Matti No sono delle No ragazzi Sono fortissimi Beh Aspetta Due colpi è andato Un attimo Lasciati uno Bravo Attento Matti C'è altro C'è un altro C'è un altro Morto uno Bravo C'è l'altro C'è l'altro No aspetta C'è gente Matti aspetta Aspetta C'è l'altro Mercoledì Aspetta Zitto 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 Curalo veloce Curalo veloce Lo sto un attimo tenendo Ma fra è Build È più bravo di me A buildare No Sono l'ultimo Sì Sì L'abbiamo vinto Godo Godo Sì Sì Godo Godo Pure con la corona Pure con la corona Grandi 60 tonde tonde Vittoria Sky Beast Con la spada laser Che partita Mamma mia Mamma mia GG Oh erano anche bravini questi eh Tanta roba Ci siamo fatti tutta la mappa eh La cio non ci cambia Ovvio Ma ci siamo fatti tutta la mappa Tra un po' Mamma mia Un applauso Grandi Grandi Grazie Grazie a tutti.